Chi non legge un pirla e questo è un invito alla lettura del libro di Concetto Marchesi intitolato Perché sono comunista. Un grande grazie a Friedrich Marx 3019 per aver suggerito questo testo. A cento anni dalla nascita del Partito Comunista d'Italia, questo libro risponde a una domanda. Perché si era comunisti? Una domanda che è stato oggetto di saggi storici, inchieste, ma anche di filme, opere di fantasia. Questa invece è una testimonianza. Diretta, viva, appassionata e qualificata. In quanto proviene da un grande latinista, Concetto Marchesi, che era stato anche l'autore del clamoroso appello con cui nel 1943, da rettore dell'Università di Padova, chiamava gli studenti a insorgere contro il nazifascismo. Perché sono comunista è un'orazione di eleganza classica e chiarezza limpida. Il testo di un discorso tenuto a Milano il 5 febbraio del 1956 e lo storico e classicista Luciano Canfora illumina, nell'introduzione, tutte le circostanze, gli antecedenti e le influenze storiche e politiche che questa conferenza ebbe. Rilevanti esponenti partigiani lo avevano invitato a parlare. Giovani, militanti e simpatizzanti che stavano partecipando alla ricostruzione dell'Italia lo ascoltavano. Accanto al racconto autobiografico, nella memoria dell'anziano e influente studioso, ormai sul finire della vita, si affacciano, sembra con più risalto rispetto ad altri aspetti, le ragioni di ordine spirituale. Inizio di una citazione. Il materialismo storico non ignora che tra le forze che hanno mosso e muovono il mondo sono quelle spirituali e altre che, se sfuggono la nostra conoscenza, non per questo perdono il loro occulto potere. Sappiamo che oltre alla realtà tangibile e sperimentabile c'è l'ignoto e l'inconoscibile. C'è la favola e il sogno. Fine della citazione. Favola, sogno. Parole piuttosto inusuali nel discorso politico di partito. Una concezione dell'essere comunisti come religione alternativa dell'uomo, come fede immanente che è presente nel secondo intervento del 1945, che fin nel titolo preannuncia la sua anomalia, con quell'enfasi sul termine persona caratteristico del pensiero cristiano, la persona umana nel comunismo. Nel dicembre del 1956, poco prima di morire, Concetto Marchesi tenne il suo discorso al congresso del PC, l'ottavo, che doveva concludere l'anno terribile. La forma affascinante e la sottigliezza dialettica, perfino una battuta ironica, diventa proverbiale. Avvolgono contenuti che rispecchiano le ragioni del realismo, della critica alla cosiddetta democrazia borghese. Introduzione di Luciano Canfora Il 5 febbraio del 1956, otto giorni prima che si aprisse a Mosca, il dirompente e iconoclastico ventesimo congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, Concetto Marchesi, 1878-1957, tenne a Milano, al Teatro Nuovo, su invito dell'Associazione Amici di Rinascita, il mensile di Togliatti, una conferenza sul tema Perché sono comunista. A ben vedere, l'iniziativa stessa di invitare un vecchio militante, noto nel partito per essere intransigente, a svolgere un tema del genere, aveva un suo significato, che non è superfluo, porre in chiaro. Se si chiama un intellettuale di alto livello a spiegare perché essere comunisti, ciò significa che la risposta a un tale quesito non è ovvia ed è necessario fornire delle ragioni a sostegno di una tale opzione. E soprattutto comporta che si metta in chiaro quale sia il contenuto dell'essere comunisti. A 35 anni dalla fondazione del partito, a 40 anni dalla rivoluzione d'ottobre, a 11 anni dalla guerra di liberazione. Se si convoca qualcuno a spiegare tutto ciò, vuol dire che esiste un problema. Non è secondario che l'iniziativa sia stata presa a Milano, cioè da una federazione del PC nella quale uno spirito di fronda da sinistra rispetto alla direzione togliattiana era sensibile. Da qualche mese, segretario regionale per la Lombardia è Pietro Secchia, declassato da dirigente nazionale a regionale dopo l'affare Seniga. E segretario della federazione di Milano è Giuseppe Alberganti. Sarà sostituito nel 1958 dopo un'aspra battaglia congressuale. Sin dagli ultimi mesi del 1945, in particolare dalla caduta del governo Parri, Secchia è persuaso che il PC, il partito nuovo di Togliatti, abbia imboccato una strada rinunciataria e di capitolazione. Tappe di tale linea politica rinunciataria sono, a suo giudizio, ad esempio l'accettazione passiva della cacciata delle sinistre dal governo nel giugno del 1947, la decisione di Togliatti di non muovere la piazza contro il colpo di mano parlamentare che varò la legge truffa il 29 marzo del 1953, e altro ancora. Declassato a dirigente regionale nel 1955, Secchia non potrà più manifestare al massimo livello e dalla posizione di forza da lui sino da loro occupata come capo dell'organizzazione di partito, la sua opposizione alla linea legalitaria, come egli la definiva, di Togliatti, ma manterrà le sue riserve e la sua critica fino all'ultimo. Morì nel 1973. L'invito milanese a concetto marchesi e richiesto di svolgere quell'impegnativo tema, si inserisce dunque nel perdurante sforzo dei dirigenti milanesi di tenere viva una linea di sinistra all'interno del partito. Secchia affidava anche ai suoi scritti privati le critiche al legalitarismo di Togliatti, divenuto man mano col tempo linea di condotta e orientamento del PC. Si tratta di una serie di quaderni e di un ampio promemoria autobiografico. In un quaderno, il numero 22 redatto nel 56-57, Secchia trascrive formulazioni di Togliatti che gli paiono particolarmente urtanti ed errate e le commenta. Ad esempio, trascrive una frase detta da Togliatti nel CC del primo luglio del 1947 dopo le cacciate, la cacciata delle sinistre dal governo. Inizio della citazione, l'elemento favorevole a noi aveva detto Togliatti e soprattutto il fatto che siamo usciti dal governo senza dare la parola d'ordine dell'insurrezione, il che ha cresciuto il prestigio del nostro partito in termini in determinati strati sociali. Commenta Secchia. Ma questo ragionamento è puerile. Nessuno pensava si dovesse o si potesse fare l'insurrezione nel giugno del 1947, ma dall'insurrezione al non far nulla ci corre. Ci siamo fatti mettere fuori dal governo senza una sola protesta di massa, senza una grande protesta. Noi dovevamo muovere le masse, proclamare uno sciopero generale di protesta anche di due giorni. Questo non ha nulla a che fare con l'insurrezione. Molto bene, questo è tutto. Spero che questo estratto vi sia piaciuto. Ringrazio ancora Friedrich Marx 3019 per aver suggerito questo testo. Fatemi sapere se leggerete il libro. Ciao a tutti, alla prossima! Grazie a tutti.